Il Consiglio regionale della Toscana Il Consiglio regionale della Toscana Il Consiglio regionale della Toscana Celebrato con seduta solenne il giorno della memoria In aula il vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli Ha aperto i lavori e ha sottolineato quanto avvenuto a Campiglia Marittima In provincia di Livorno Dove due adolescenti di 15 anni hanno insultato un ragazzino di 12 Con offese razziste per poi aggredirlo con sputi, pugni e calci Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo A Roma per eleggere il nuovo presidente della Repubblica Ha intervenuto da remoto Ricordando anche egli l'episodio di Campiglia Marittima La parola è poi passata allo storico Michele Sarfatti Considerato uno dei maggiori esperti delle leggi razziali E della storia degli ebrei nel novecento È importante esserci nel giorno della memoria Perché quello che è accaduto non accada mai più Sembra tutto così scontato Ma basta vedere quello che è accaduto Soltanto pochi giorni fa a Campiglia Marittima Un ragazzo preso di 12 anni Preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo E allora penso che il nostro lavoro di ricordo Ma anche di racconto alle ragazze e ragazzi più giovani Specialmente nel tempo in cui non ci sono più Quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo sia importante Una seduta che ho voluto aprire Ricordando e denunciando i fatti successi ieri Nelle giornate precedenti a quella della giornata della memoria In merito ai fatti accaduti nel Livornese Perché quello che è successo è molto grave L'abbiamo denunciato Abbiamo chiesto qualora possibile al Consiglio regionale Di costituirsi anche parte civile Perché la Toscana è terra di diritti È terra di solidarietà È terra di rispetto E quanto è successo da due ragazze di 15 anni Al cospetto di un ragazzino di 12 anni Chiede giustizia Io nel mio intervento ho delineato Quella che è stata la storia della Shoah Di questo folle ma umano purtroppo Percorso di persecuzione E di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'Europa È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente Con alcune limitate eccezioni E che ha avuto qualche cosa In fondo di abbastanza simile All'epidemia A quelle di colera O a quella del covid attuale Ed era basata Sull'antisemitismo Sull'odio verso gli ebrei Per il semplice fatto di essere ebrei L'antisemitismo è una brutta bestia È un virus per il quale Non è stato ancora inventato Il vaccino definitivo Siamo nella stessa situazione Se vogliamo Anche se il paragone può sembrare strano Siamo nella stessa situazione del covid Quindi contro l'antisemitismo E contro gli altri razzismi Bisogna continuare ad agire A educare A riflettere In modo particolare nelle scuole All'interno delle famiglie Non possiamo assolutamente dare per scontato Che i razzismi Le discriminazioni Le violenze Alimentate da sentimenti di odio E di indifferenza Siano battuti Anzi Come abbiamo visto purtroppo Sono sempre pronti a riemergere Anche in una terra Che è la terra dei diritti E della civiltà Che si chiama Toscana Quello che è accaduto Sicuramente Un episodio Che va condannato La nostra vicinanza La nostra solidarietà Alla famiglia Al sindaco Che prontamente A dimostrazione Di quali sono gli anticorpi Presenti e vivi Ha anche organizzato Una fiaccolata Per manifestare La condanna Lo sdegno E appunto la solidarietà A questo ragazzo Che ha subito Questo atteggiamento Di aggressione E di discriminazione Si rende ancora più importante Oggi questa giornata Perché è giusto evidenziare La cultura Della memoria Contro la cultura Dell'odio Quello che è successo A Campiglia Marittima Deve trovare la condanna Deve trovare la condanna Di tutta la politica Ma io direi Di tutte le istituzioni Dei cittadini tutti Perché è inaccettabile Quello che si è verificato E dobbiamo Evidentemente Ancora lavorare tanto Sui nostri giovani Sui ragazzi Ma anche sulle Sulle persone adulte Affinché si capisca Fino in fondo Il messaggio Che vogliamo trasmettere Che deve essere Comunque un messaggio Di pace Di fratellanza E di vicinanza E ricordare In questo giorno Ma non solo In questo giorno Anche tutto l'anno Quanto è successo Anche in Toscana Sui nostri territori In quel periodo Che è un periodo nero Per tutta la storia Mondiale direi C'è l'esigenza Di capire Sostanzialmente Che cosa si è verificato In Europa Non soltanto Durante e dopo La Shoah Nell'immediatezza Della liberazione Dei campi di sterminio Ma come fu possibile Arrivare a quei momenti Capire come la comunità Internazionale In quel momento Si comportò E come ci stiamo Comportando oggi Di fronte A situazioni Che sono Sostanzialmente Se non alla pari Ma rischiano di essere Sostanzialmente L'anticamera Di stragi più silenziose Che silenziose Sono soltanto Perché non sono filmate Non sono Sotto l'attenzione Dei media O della politica Internazionale E sotto questo aspetto Va letto Anche l'incidente Gravissimo Di Campiglia Marittima Questo antisemitismo Risorgente Che registriamo Nella comunità Internazionale Che sostanzialmente Porta con sé Ancora A pregiudizi Nei confronti Dello Stato di Israele Ci si chiede ancora Troppo spesso Se sia ancora Così indispensabile Avere giorni Come il giorno Della memoria In cui si ricorda Un episodio Si ricordano Una parte Della nostra storia Una parte Della storia europea Con cui l'Europa stessa Ancora oggi Fatica a fare i conti La risposta È Nell'episodio Che è accaduto Nei giorni scorsi Contro Il bambino Che è stato Aggredito A Campiglia Marittima Per le sue origini Ecco La risposta è quello Sì È indispensabile È indispensabile Fare memoria Di quella che è stata La nostra storia Conoscerla Fino in fondo Perché Non si ripetano più Questi episodi E soprattutto Perché non si commetta Un errore molto grave Che è quello Di accomunare Tutti i totalitarismi Tutti gli episodi Terribili Tutti gli eventi drammatici Che la storia europea E direi mondiale Ha conosciuto In occasione Della seduta solenne Del Consiglio regionale Per il giorno della memoria È stato presentato Il libro di Alfredo De Girolamo Chi salva una vita In memoria dei giusti toscani Edito dall'Assemblea legislativa Toscana Ricordare Ha sottolineato l'autore Vuol dire anche Guardare al futuro E saper cogliere Nella straordinaria rete Di solidarietà Che molti italiani Tra questi 150 toscani Misero in campo Il senso della democrazia E del rispetto per l'altro Tra le grandi storie ricordate È quella di Gino Bartali Uno dei massimi artefici Della rete di solidarietà Ma tanti altri racconti Compongono il libro E la ricerca che proseguirà Servirà A conclude De Girolamo Alle future generazioni Affinché sappiano E non dimentichino Quanto è accaduto Grazie di cuore Ad Alfredo De Girolam Per averci voluto Offrire questa sua Nuova pubblicazione Chi salva una vita La storia dei giusti In Toscana Per tanto tempo Non hanno voluto Raccontare queste figure Tra cui Una delle più note È Gino Bartali Come salvarono Tanti e tanti ebrei Nel 1938 Vittorio Emanuele III Firmò Nel parco di San Rossore Le leggi razziali Ed inì Fu l'inizio Della fine Tanti ebrei Furono violentati Furono deportati Tanti ebrei Subirono le violenze Del regime nazifascista Ma ci furono Tante donne E tanti uomini Che non furono indifferenti Che non si voltarono Dall'altra parte Che seppero dare Il loro contributo E aiutarono Tanti ebrei Ad evitare I campi di concentramento E la morte E in questo racconto Un racconto Che nasce nel tempo Dopo tanti anni Perché Loro Per tanto tempo Non vollero raccontare Queste storie E che oggi invece Sono messe a disposizione Di tutti In una giornata Come questa Ricordare Vuol dire anche Guardare al futuro E quindi alla memoria Noi toscani Dobbiamo sempre Sapere che ci sono stati In quegli anni bui Terribili Di tragedia Di genocidio Più bui del novecento 150 toscani E tanti altri ancora Che hanno deciso Che decisero allora Di non voltare la faccia Dall'altra parte E di mettere A disposizione Loro stessi Per salvare La vita Di altri Fossero stati Fossero stati Ebrei O altro Secondo me Era poco indifferente Perché quando dentro Si sente E si ha un valore Come questo Ieri può aiutare Qualcuno Domani può aiutare Qualche altro E nello stesso tempo Decidere di vivere In un paese Dove ci sia la democrazia E dove ci sia il rispetto Degli altri La Toscana è terra di diritti Ma è terra di storie È terra di uomini Che come i giusti Hanno salvato altre vite Essere giusto Vuol dire Riuscire a dare Il proprio contributo Di giustizia In una società Dove l'intolleranza E l'odio Molte volte Determinano La morte Di tante persone Non c'è Tirannia Non c'è Dittatura Non c'è Elemento Che abbia poi Portato Non portato A una guerra Soltanto la giustizia È il vero Diciamo Vaccino Al cospetto Di queste grandi forme Di violenza Che l'uomo È stato in grado Di compiere In confronti Di altri uomini Per questo Questo libro È una testimonianza Di persone Che hanno salvato Altre persone E dove le persone Non sono solamente numeri Ma sono appunto Delle persone Delle vite Dove le persone Possono a questo punto Anche rispecchiarsi E prendere come modello È stato bene ricordato Nel corso Della seduta Del consiglio solenne Quello che ha fatto Cino Bartali Per salvare Tante vite Partendo appunto Dalla mia terontola E approfittando Del fatto che Diceva di Doversi allenare Quindi portava Questi salvacondotti Fino ad Assisi Questa è la storia Anche della mia cortona Nel tempo Sono stato legato A figure come Ivo Faltoni Che è stato meccanico Di Gino Bartali Che tanto si è speso Per ricordare L'esperienza Che ci regala Alfredo Di Girolamo È sicuramente Un lavoro prezioso Di ricostruzione Intanto di verità storiche Di onore Alle persone Che non Avendo esercitato L'indifferenza Che spesso Accompagna Le abitudini Di molti Hanno salvato vite E con questo Salvato il mondo Come viene detto Anche nel testo E quindi In qualche modo Si conferisce Eternità A questi esempi Virtuosi E dall'altra parte Si recupera E non si disperde Una lezione Di civiltà Che certamente Ci consegnano La lettura Che dà De Girolamo È una lettura Positiva Di questo tipo Di ricorrenza Ovvero Ricordare Chi con L'animo Dei italiani Dei toscani Non volle Piegarsi Comunque A quelle che erano Le leggi Sbagliate Di allora E volle Con il proprio gesto Appunto Non girarsi Dall'altra parte Mettendo a disposizione Se stesso Perché potesse Essere Meno cruente Meno Drammatica Meno tragica L'azione Di quel Tipo di norme Con appunto L'intervento Di tanti giusti Che a quelle norme Si opposero Qui parliamo Dei giusti Cioè coloro Che hanno ridotto Diciamolo così Il numero Dei deportati Gli ebrei in Italia Fero deportati In 8000 Pensate Su 47000 Questa era la comunità Ebraica italiana 8000 8000 Di questi Ne tornarono 10% Forse Anche meno Qualcuni morirono dopo Per quello Avevano subito Quindi se Non ci fossero stati giusti Quelli 8000 Erano sicuramente Di più Sicuramente Di più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti